Una provettina di sangue, poi daranno la risposta via internet, si può prendere, sembra una cosa positiva, una bella iniziativa, mi hanno contattato telefonicamente come estratto dall'Istat e ho aderito. Un test che come cittadina italiana lo trovo estremamente giusto, molto democratico e anche per gli altri, quindi sono stata selezionata tramite un numero loro e quindi avevo delle caratteristiche della mia fascia d'età, credo. Mi hanno fatto un prelievo in vena e fra una settimana vedrò il risultato, se sono stata contagiata, altrimenti vedono la mia immunità e quindi questo è un modo per capire un po' l'evoluzione di questo virus. E' come anche i cittadini, la popolazione reagisce a secondo le fasce d'età. Noi stiamo facendo un progetto che come credo sia stato già ampiamente diffuso dai media, che è praticamente un progetto del Ministero della Salute insieme all'Istat e all'Istituto Spallanzani sulla sieroprevalenza rispetto al Covid-19. Quindi in questo momento siamo qui a Terni, ma dovremmo fare 39 comuni, tutti 39 comuni dell'Umbria. Abbiamo già iniziato martedì mattina e questo progetto che prevede un campionamento anticipatorio, che è il campionamento che stiamo facendo oggi, lo finiamo sabato per ricominciare il 3 giugno con un campionamento totale. Queste persone che sono state contattate, sono state contattate telefonicamente, arrivati qui facciamo firmare un consenso informato, vengono qui e fanno il prelievo dalle sorelle che sono infermiere. Poi il prelievo verrà trasportato presso il laboratorio analisi dell'azienda ospedaliera. Loro hanno un documento che è un documento referto online, quindi possono ritirare autonomamente il risultato e i risultati vengono trasferiti direttamente all'Istituto Spallanzani. Grazie.